oltre alla mia sempiterna lotta nei confronti delle chilocalorie adesso si è aggiunta a quanto pare se hai visto l'ultimo video anche la battaglia nei confronti del flickering ovvero il fastidiosissimo sfarfallio dei led alle mie spalle alcuni membri della community mi hanno suggerito di cambiare gli fps della videocamera altri mi hanno suggerito di cambiare l'ersaggio vi annuncio con sommo orgoglio che ho provato entrambe le cose ma hanno vinto ancora i led come puoi vedere ma veniamo a noi perché quest'oggi voglio presentarti un software di cui ti volevo parlare letteralmente da mesi ma che non ho mai avuto occasione di mettermi seduto e presentarti come si deve ebbene risolviamo una volta per tutte questo problema di che cosa si tratta di un software in grado sia di proteggerci dalle minacce online sia di proteggerci dai pop up oppure dagli ads indesiderati ma anche di impedire che i nostri dati personali vengano divulgati ovunque non ci credi ebbene è proprio così e vado immediatamente a dimostrartelo e quindi se ti senti pronto iniziamo ma se pensi che le chilocalorie che accumulo mangiando cioccolatini oppure i led che sfarfallano allegramente alle mie spalle siano i principali problemi da cui dobbiamo difenderci in questo universo digitale ti sbagli di gran lunga perché ne abbiamo uno sempre in agguato che non sia mai che ci dimentichiamo di placare adeguatamente per mezzo del nostro rituale apotropaico e sì sto parlando proprio di loro le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ma sì andiamo avanti confidando che su di noi si posi lo sguardo benevolo delle divinità del tubo per procurarci il software che ci serve oggi non faremo niente di particolarmente diverso dal solito infatti ci basterà aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it facciamo clic per aprire il sito e una volta aperto portiamoci qui in alto nella sezione downloads aperta anche questa sezione scenderemo solo un pochino più in basso fino ad individuare quello che è il primo download in alto ovvero nordvpn le istruzioni per installare e configurare nordvpn le trovi qui sotto cliccando sul pulsante guarda il video perché abbiamo già parlato precedentemente di altre funzionalità di nordvpn come la vpn stessa che ci consente di crittografare il nostro indirizzo ip rendere più sicura la nostra navigazione e di usufruire ad esempio di servizi non disponibili sul territorio nazionale nel video che aprirà invece qui parleremo di meshnet ovvero la possibilità di creare una rete privata tra due o tre computer di nostra proprietà oppure di computer di nostri amici con cui vorremmo interscambiare informazioni dati e file ma quello che vedremo oggi sarà un servizio completamente nuovo che si chiama threat protection quindi una volta guardato il video con le istruzioni e cliccato su questo link che oltretutto ci consente di avere uno sconto per la community oppure anche di avere un rimborso entro i primi 30 giorni se per qualsiasi motivo non dovessimo essere soddisfatti del prodotto cosa che non credo proprio ci ritroveremo finalmente con il nostro nordvpn installato e troverai l'iconcina qui in basso come vedi sempre nei miei video facciamoci clic su e andiamo a vedere come funziona questa threat protection la prima cosa da fare sarà portarci su questa barra a sinistra e fare clicc su questo pulsante quello che si chiama threat protection pro ti faccio notare che non è indispensabile essere connessi alla vpn per poterla utilizzare una volta cliccato sul pulsante vediamo che threat protection si articola su tre punti fondamentali che costituiscono la protezione completa del nostro pc andiamo a vederli uno per uno ci sarà possibile attivare l'anti malware ovvero il primo a sinistra anche semplicemente cliccando sul pulsante attiva tuttavia se cliccherai invece sul pulsante gestisci vedrai che ci sono una serie di impostazioni possibili che sono davvero molto interessanti andiamo quindi come prima cosa ad attivare l'anti malware agendo su questo switch e vediamo che avremo attivato lo scanner di vulnerabilità che analizzerà le app installate nel nostro computer per verificare che siano sicure possiamo fare anche una verifica on demand cliccando sul pulsante verifica ora la risposta se sia tutto a posto come in questo caso o meno ti verrà data nella riga successiva dove come puoi vedere in questo caso è scritto tutto bene nessuna vulnerabilità è stata trovata sulle app installate sul nostro pc naturalmente se verrà individuata qualche app vulnerabile sarà indicata esattamente in questo punto vi consiglio di attivare tramite questo switch anche lo scanner anti malware che come leggiamo ha lo scopo di analizzare i file che andiamo a scaricare ed eliminare automaticamente quelli che contengono del malware ma attenzione perché a differenza degli antivirus tradizionali threat protection elimina le minacce prima che queste raggiungano il nostro pc garantendoti in questo modo una protezione davvero totale andando avanti troviamo anche lo scanner delle minacce basato sul cloud che una volta attivato ci consente di testare eventuali file sospetti direttamente sul cloud di nordvpn dove verrà testato per accertarsi che il file sia effettivamente sicuro ma a questo punto premiamo questa frecciolina qui in alto torniamo alla finestra precedente ed andiamo ad esaminare la protezione di navigazione avanzata anche in questo caso potrai attivarla semplicemente cliccando su questo pulsante ma se vorrai vedere tutte quante le funzionalità nel dettaglio la cosa migliore sarà cliccare sul pulsante gestisci la prima cosa che faremo in questa finestra sarà attivare la protezione di navigazione avanzata che dispone di un blocco automatico di tutti quanti i siti web che rappresentano una minaccia per il nostro computer come ad esempio quelli che ospitano malware oppure contengono dei phishing abbiamo poi l'avviso di truffa e di frode che ci metterà in guardia nel caso in cui un sito che stiamo visitando sia noto per aver truffato degli utenti ancora c'è l'indicatore relativo alla sicurezza dei risultati di ricerca che ci dirà quando effettuiamo una ricerca se i siti web nei nostri risultati sono sicuri o meno ed infine ti consiglio di attivare se lo desideri anche questo filtro dns che blocca annunci e siti web pericolosi basta cliccare naturalmente anche in questo caso sul relativo switch clicchiamo ancora una volta sul pulsante per tornare indietro ed andiamo ad esaminare il terzo componente di threat protection ovvero quello che si occupa di tenere a bada per noi tutti quanti i pop up le pubblicità e i tracker fastidiosissimi per attivarlo clicchiamo per gli stessi motivi sempre sul pulsante gestisci e una volta aperta la finestra la prima cosa che andremo a fare sarà agire sul primo switch in alto in modo da attivare tutte queste protezioni ma quali sono queste protezioni innanzitutto avremo un blocco delle pubblicità e dei pop up e degli annunci invadenti in secondo luogo avremo il blocco dei tracker che sono quei cookies che servono a tracciare tutte quante le nostre attività online che vengono solitamente utilizzati per scopi commerciali e infine avremo anche l'url cleaner che rimuove i parametri di tracciamento direttamente dai link web in modo da avere una navigazione sempre pulitissima insomma secondo me si tratta di un prodotto che già da solo vale tutto quanto il costo dell'abbonamento ti ricordo che a questo proposito nordvpn ha destinato ai membri di questa community uno sconto particolare che ti lascio oltre che sul sito come ti ho fatto vedere anche nella descrizione di questo video e nel commento in evidenza di più non so che cosa fare se non passare ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima io mi mangio una gocciola